I 90 minuti più importanti della stagione, nella cornice più suggestiva, ma anche più delicata e pesante di tutte. Bari e Foggia si affronteranno domani pomeriggio nella sfida playoff tutta pugliese. Delle due l'una, in un match che si preannuncia sostanzialmente equilibrato, nonostante la differenza tecnica e di classifica che va a favore dei biancorossi. Eppure, nessuna delle due potrà contare sul ritmo di gara costante. Il Foggia è fermo da dieci giorni dopo il successo di Catania, il Bari addirittura da una settimana in più, con la chiusura della regular season. Il morale dei rossoneri è altissimo, così come la consapevolezza di non avere nulla da perdere al cospetto degli avversari. È la squadra di Auteri ad avere l'obbligo della qualificazione, da centrare attraverso due risultati su tre al termine di 90 minuti. Per passare il turno quindi, come a Catania, il Foggia avrà l'obbligo di vincere nei tempi regolamentari. Partita da giocare all'attacco per Marchionni, che però deve fare i conti con le positività al Covid nel gruppo squadra. Si tratta di un calciatore e due tesserati non appartenenti alla prima squadra, con il tecnico dei Satanelli, che non dovrebbe avere particolari problemi di formazione. Tornato in gruppo anche dell'Agnello, una freccia in più nell'arco offensivo, mentre sono ancora da valutare le condizioni di Del Prete. Il Bari invece dovrà gestire il fattore campo e non fallire nel match d'esordio nei play-off di questa stagione. La pressione per la posta in palio è tangibile, ma il tasso tecnico dell'organico biancorosso deve sopperire a tutte le difficoltà della stagione regolare. Auteri confermerà il 3-4-3, confidando in una prestazione di spessore da parte della difesa composta da Sabbione, di Cesare e Perrotta. In avanti Mara, Santenucci e Dursi dovranno mettere al sicuro il risultato ed evitare spiacevoli sorprese da parte degli ospiti. Non ci saranno tempi supplementari e calci di rigore. Tutto si deciderà al novantesimo più recupero. Il Bari deve vincere per tenere viva la speranza di centrare la Serie B. Il Foggia si gode probabilmente l'unico caso nella sua storia in cui il derby con i biancorossi potrà essere affrontato a cuor leggero. Una condizione mentale che potrebbe anche diventare un fattore decisivo al termine del match del San Nicola. Fischio di inizio fissato per domani alle 17.45.